La centralità di Cristo non può scomparire, non si può parlare di predestinazione senza parlare di Cristo. Infatti noi sappiamo di essere eletti da Dio e amati solo all'interno dell'opera di Gesù Cristo. Senza Cristo questo non potrebbe accadere. Gesù è la rivelazione di Dio, Egli è la via, la verità e la vita, anche per quanto riguarda il mistero della nostra elezione. Gesù Cristo è il riferimento dei credenti, in Lui abbiamo la certezza di essere nelle mani di Dio, di avere la garanzia della nostra esistenza e la comunione con Lui. Perciò l'Apostolo Paolo può dire, chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione? Cristo non è solo lo specchio su cui vedere riflesso il disegno di Dio. Cristo è colui in cui tutto avviene, è colui in cui ogni decisione presa e attuata. È Cristo stesso la decisione, l'unica, eterna.